Buongiorno e benvenuti all'edizione di oggi del SAP CAFE. Io sono Margherita Scalfi e oggi sono in compagnia di Riccardo Donelli di PwC. Oggi parleremo di come ripensare il processo di performance. Quindi Riccardo parliamo di reinventare la performance. C'è una moda o effettivamente una necessità. Io credo che ci siano entrambe le dimensioni, nel senso che sicuramente in questo periodo si fa un gran parlare di reinventare la performance, il performance management o continuous feedback. Penso che ci sia una componente di moda, però dall'altra parte penso anche che questo sia un fatto che ha delle radici in quello che sta succedendo nelle organizzazioni e nel modo in cui le persone lavorano nelle organizzazioni. Per spiegare questo concetto vorrei fare un passo indietro. Un passo indietro di circa 150 anni. Come si vede da questa slide, la nostra concezione dell'azienda appoggia le sue radici sulla rivoluzione industriale. Questo è un organigramma di un'organizzazione appunto di circa 150 anni fa e vediamo che però le logiche che stanno sotto a questo modo di rappresentare l'organizzazione non sono tanto cambiate. In particolare quello che interessa a noi oggi è che rappresentare l'organizzazione in questa maniera vuol dire anche che la valutazione delle performance delle persone che lavorano in questa organizzazione sono concepite come qualche cosa che viene emanato dall'organizzazione stessa e le persone devono in qualche maniera adattarsi o subire o essere valutate secondo uno schema predefinito. Se noi vediamo in questa slide sostanzialmente stiamo dicendo che dalla rivoluzione industriale dopo diversi anni si è capito che era importante valutare la performance e dopo altri anni, nel dopoguerra, si è stabilito che fosse importante o che potesse essere uno strumento di management efficace il fatto di avere ad esempio le distribuzioni forzate. Questo sicuramente ha dato un contributo grandissimo all'evoluzione della gestione delle persone nelle aziende ma anche oggi vediamo che inizia sicuramente a segnare il passo. Vediamo infatti che ci sono molte realtà che negli ultimi tempi, quindi l'ultimo anno o due anni in particolare, stanno decisamente ripensando questo modo di fare le cose. Non ultima, oltre a queste aziende che sono citate qui, abbiamo anche Google che attraverso il suo Vice President di Risorse Umane in maniera anche un po' scherzosa ci ricorda che questo modo di vedere le cose e probabilmente affondere le radici in un passato che ormai è troppo lontano. Grazie Riccardo, abbiamo visto quindi che la scuola di pensiero sta cambiando, ma quali sono le motivazioni e le problematiche dietro al sistema corrente? Vorrei in termine rispondere a questa tua domanda con alcune ricerche che sono state fatte da PwC o da altre entità relativamente al tema della performance e alle issue, ai problemi che le aziende percepiscono in questo modo di gestire questo processo, cosa è fondamentale. Ad esempio in questa slide vediamo che tra le cose citate come più rilevanti abbiamo il fatto che viene data prevalenza al processo invece che al contenuto della valutazione, c'è un problema di tempi, per cui il tempo del ciclo annuale è molto lungo rispetto alla performance che accade tutti i giorni e al bisogno delle persone di avere un feedback, appunto un segnale di come si stanno comportando nelle loro azioni quotidiane e anche molto spesso, molto collegato a quello che dicevo poco fa, il fatto che le valutazioni di performance sono spesso viste come un onere o come un esercizio di compliance, come è scritto qui, e quindi come qualcosa che l'organizzazione impone alle persone piuttosto che essere un facilitatore delle performance o un potenziatore delle performance delle persone. Un'altra ricerca fa una domanda leggermente diversa ma che ci aiuta a dare una dimensione aggiuntiva a questo fenomeno e cioè chiede che cosa si potrebbe cambiare nel ciclo di valutazione delle performance. Uno è senz'altro quello di potenziare i processi di talent, management e di sviluppo, però abbiamo ad esempio un fattore interessante, cioè l'utilizzo della tecnologia che come tutti sappiamo ha avuto un'evoluzione potentissima, velocissima negli ultimi anni e che oggi permette veramente di fare delle cose che fino a poco tempo fa erano decisamente impensabili. Oppure ad esempio il fatto di dare molta più importanza ai comportamenti nel momento in cui questi vengono messi in atto piuttosto che a un'idea un po' astratta e concettuale che inevitabilmente di questi abbiamo se passa molto tempo, tra quando la performance avviene e quando facciamo una review. In questo senso, proprio volendo dare un accenno, una sottolineatura a questo aspetto della conversazione, vorrei attraverso questa slide dimostrare o comunque ricordare che è fondamentale per le persone sapere come si stanno comportando e questo deve necessariamente avvenire tramite una conversazione. Se dovessi scegliere un fattore che sopra gli altri determina questo cambiamento di pensiero, oltre alla prospettiva che prima citavo, cioè qualcosa che è più legato alla persona e gestito dalla persona, il secondo fattore che direi è che questo deve avvenire attraverso delle conversazioni e non attraverso dei processi rigidi, predeterminati, che sono più pensati per l'azienda che per le persone stesse. Grazie Riccardo. Cosa va cambiato quindi nel nuovo modello? Ci sono diverse cose che possono essere cambiate. Adesso magari proverei a vedere insieme a voi una carrellata di quelli che possono essere i punti di riflessione. Ovviamente non esiste una ricetta valida per tutte le situazioni, però ci sono dei fattori che sono abbastanza ricorrenti. Ad esempio se scorriamo quelli che sono illustrati in questa pagina, vediamo che un punto che è molto spesso presente, anche questo viene dai nostri clienti, dall'esperienza fatta con i nostri clienti, dice che è meglio evitare il performance rating. Il performance rating è inteso come un numero, una valutazione, un livello che sostanzialmente esprime una valutazione sintetica overall, perché poi le persone si ricordano di questo numero e si dimenticano di tutto il contenuto, il valore che ci può essere dietro. Un secondo elemento molto dibattuto è il tipo di connessione che ci deve essere tra la performance e la remunerazione, quindi pay for performance sì o no. Come vedete ci sono opinioni anche contrastanti, o meglio ci sono situazioni in cui quasi paradossalmente può essere sensato eliminare qualunque link, perché la valutazione può essere strumentalizzata in qualche maniera nel momento in cui voglio ottenere un obiettivo di remunerazione, oppure può essere rafforzato perché tutto questo rafforza il valore, il peso del processo di performance in quanto tale. Onestamente questi aspetti, in particolare questi due legati al pay for performance, non sono particolarmente nuovi, però diciamo che nel nuovo modo di vedere le cose viene ulteriormente accentuato un tema che è presente da tantissimi anni. Un altro aspetto interessante che sempre i nostri clienti, nelle riflessioni, nel lavoro fatto con loro ci hanno indicato, è il valore che ci può essere dal disaccoppiare il coach e l'assessor, quindi avere un ruolo di qualcuno che valuta e che quindi ha un occhio sui comportamenti, la performance ottenuta, e un altro che invece ha l'occhio al futuro, a quello che deve essere fatto per sviluppare le capacità e le potenzialità della persona. Quello che però molto spesso viene messo in discussione è proprio il ciclo annuale di review, perché come minimo questo è valutato non sufficiente da solo a racchiudere tutte le complessità della performance che, come abbiamo detto, è quotidiana. In tutto questo però noi abbiamo visto che ci sono diversi approcci, c'è un approccio più radicale e un approccio più conservativo. Ad esempio in questo caso, se incominciamo da quello che è chiamato relative performer, sostanzialmente siamo nella situazione attuale. Relative performer è la situazione in cui tipicamente una struttura organizzativa, un capo, valuta ai collaboratori, normalmente attraverso un ciclo annuale. Poi c'è una possibilità di evoluzione molto significativa, che è quella di eliminare il ciclo annuale e di eliminare tutto quello che prima era chiamato come compliance, cioè tutte quelle parti di sovrastruttura organizzativa, di processo, sostituendo a queste un contenuto più di conversazione, come abbiamo detto prima. E' un contributo, scusate, un modello che cerca di valutare di più il contributo dato dalle persone attraverso modalità molto più elastiche, molto più lasche rispetto a quelle tradizionali. Se poi, come dire, facciamo un ulteriore passo in questa direzione, abbiamo quello che oggi possiamo considerare un po' all'estremo, che qui è chiamato West Coast Model, cioè quello tipico di molte aziende della Silicon Valley, anche prima citavamo Google per fare un esempio, in cui non solo è il modello di performance management che viene un po' messo in discussione, ripensato, ma se volete un po' proprio tutto il modello organizzativo, tutta la concezione di organizzazione e di contributo delle persone all'interno dell'organizzazione, in cui tutto diventa più liquido e meno definito, e quindi di conseguenza inevitabilmente anche il ciclo di performance deve essere completamente ripensato. Tutto questo però non è detto che sia applicabile alle realtà, ad esempio, italiane o alle realtà specifiche della complessità di vari settori industriali. Molto spesso, infatti, vediamo che le aziende adottano un approccio ibrido, un approccio che combina alcune di queste cose. Un esempio più classico è quello, sempre parlando dell'esempio della periodicità del ciclo di performance, che combina il ciclo annuale, quindi lo mantiene, mantiene il ciclo annuale, ma associa a questo e vi affianca un ciclo più continuo, ad esempio un feedback settimanale. Questo è un modello abbastanza diffuso, o meglio che si sta diffondendo molto velocemente, perché è meno disruptive, se volete, degli altri, ma che già comunque va in una direzione molto decisamente innovativa. In questa pagina abbiamo voluto raccogliere molti degli elementi che possono essere considerati. È chiaro che, visti così, possono sembrare un po' sparsi, però ce ne sono alcuni su cui vorrei magari soffermarmi un secondo, perché possano introdurre dei temi interessanti. Ad esempio abbiamo parlato di connected employees, nel senso che abbiamo parlato di, come si dice, di employees che devono non solo lavorare nell'assoluto o da soli in isolamento, ma devono lavorare in una rete, quindi avere una dimensione anche più sociale. e se vogliamo portare un po' all'estremo questo, abbiamo dall'altro lato, abbiamo tutto il tema del crowdsourcing della valutazione. Si è molto parlato di valutazione attraverso i like, che vista da sola e vista in assoluto o pensata come sostituzione del ciclo di performance, è probabilmente una provocazione, ma che porta in sé un tema molto importante, cioè il fatto che a volte l'osservazione dei comportamenti avviene anche a livello molto più superficiale, quindi avere un contributo da tante persone raggruppate attraverso una tecnologia tipicamente in maniera strutturata può portare un'indicazione che altrimenti non avremmo. Infatti a questo proposito abbiamo le tecnologie cloud, non a caso oggi siamo in casa di SAP e stiamo parlando di success factors, che sono un elemento irrinunciabile, senza questo probabilmente nessuna di queste cose potrebbe stare in piedi. L'ultima cosa, poi bisognerebbe magari parlare di un po' di tutti questi aspetti, ma le ultime due cose che vorrei sottolineare sono la parte di gamification, che sempre più spesso viene utilizzata non solo per processi di apprendimento, quindi nella parte learning, ma sempre più spesso, dicevo, anche nella parte proprio di valutazione, che introduce una dimensione molto interessante di come le persone apprendono e di come le persone valutano o vengono valutate. Questo poi sarebbe interessante da approfondire magari in una sezione separata. Ultimo, last but not least, direbbero gli inglesi, la parte mobile. Può sembrare, messo in questa maniera, può sembrare un aspetto tecnologico, ma in realtà è molto connesso con il tema che stiamo discutendo, perché se io devo valutare una performance nel momento in cui questo accade, è molto importante che io lo possa fare in quel momento, senza dover aspettare di trovarmi in un altro setting, dove poi magari quello che volevo esprimere con la mia valutazione non è più possibile, non è più accessibile. Bene, mi faresti un esempio di come si può intervenire? Evidentemente un intervento deve essere articolato, e probabilmente non abbiamo il tempo qua per fare un esempio completo, però possiamo magari vedere alcune linee guida di quello che potrebbe essere una modalità di intervento per ripensare, ridisegnare un modello di performance management. In questa slide abbiamo un elenco di punti che potrebbero essere presi come spunto. Il primo punto può essere quello di rendere più leggero il vero e proprio schema di valutazione della performance, facendo in modo che non ci sia una necessità di inserire in maniera molto pesante, molto ripetitiva e anche molto strutturata troppi commenti, oppure dall'altra parte in maniera troppo meccanicistica. Qui ci sono diversi esempi che magari possiamo vedere in un momento dedicato. Il secondo forse è quello più importante da un punto di vista HR tradizionale, e cioè provare a fare uno shift dal tradizionale concetto di competenze al concetto dei valori. Provare a valutare non tanto le singole competenze, che anche esse hanno un'origine ben precisa, che è quella che abbiamo detto prima, ma andare un po' più al cuore della questione, andare a capire se questa persona nel suo insieme sta esprimendo un comportamento che è in linea con i valori dell'azienda e anche attraverso delle modalità che sono espresse quotidianamente in maniera consistente. Il terzo è un esempio di come deve essere alleggerito il processo. Non deve essere reso troppo pesante o troppo direttivo la modalità di richiesta, di compilazione, e deve essere quindi reso molto più semplice, come abbiamo detto prima, molto più continuativo e fluido. Il quarto, espresso in questa maniera, è un po' generico probabilmente, ma lo possiamo collegare al tema del tempo. Abbiamo detto continuous performance feedback o continuous feedback. questo dice fare in modo che la review non avvenga una volta all'anno, ma che avvenga in maniera continuativa. Questo sia per quanto riguarda i comportamenti, ma qui in particolare si sottolinea anche l'aspetto dei dati quantitativi, laddove questi siano presenti e recepiti all'interno del modello. Last but not least, la tecnologia. La tecnologia, abbiamo detto anche prima, è un fattore essenziale per fare questo passaggio, e deve essere considerata fin dall'inizio del processo di ridisegno, di ripensamento del modello di performance. Altrimenti si rischia di replicare un modello, come dire, un modello del passato, senza trarre spunto dalle opportunità che oggi la tecnologia ci offre. Ho fatto prima l'esempio del mobile, che è però solo uno dei tantissimi elementi, dei tantissimi aspetti in cui la tecnologia cloud, in particolare ci può aiutare. Vorrei concludere questo dicendo non tanto e non più quali sono gli elementi da considerare, ma facendo un'ultima riflessione sul modo con cui noi abbiamo visto si possa fare questo cambiamento, questo shift tra un modello più tradizionale e un modello più innovativo. il ragionamento che sta alla base di questo è che se è innovativo il modello, se è innovativo il contenuto, deve essere innovativo e diverso dal passato anche il modo con cui lo si disegna. In particolare noi abbiamo visto che è molto efficace utilizzare una metodologia di design thinking, in particolare una su cui siamo stati riconosciuti come leader, che si chiama The Difference, ma che in sostanza è una metodologia che utilizza design thinking su aspetti di risorse umane e in particolare sul ripensamento di processi critici, quale è proprio il performance management in tutte le direzioni che abbiamo descritto fino a qua. Bene Riccardo, grazie mille per gli interessanti spunti che ci hai dato. Grazie a te e grazie a tutti voi per la pazienza che avete avuto nell'ascoltare quello che abbiamo condiviso. Ovviamente se ci sono altri aspetti che ritenete utili approfondire, potete contattarci agli indirizzi che trovate indicati in questa pagina. Grazie, alla prossima. Grazie.